Io spero che il mio ottimismo e la mia determinazione portino fortuna anche ad altri progetti per la città. Poco meno di un anno per la concretizzazione del progetto Campus Universitario della Caserma Piave, ancora fermo, e lo dice chiaramente l'Università è in un'occasione tanto solenne, il nuovo ospedale della città. L'entusiasmo accompagna il Rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, ma sul fronte sanità per ora non si registrano concreti passi in avanti. La Regione vuole le aree di Padova-Est, zona individuata dai tecnici, gratis. Il Sindaco Giordani cerca una via d'uscita onorevole, pone condizioni, ma anche le prime aperture. Non ho mai detto questo, ho detto che ce la faremo, dipende dai modi. Se la Regione fa un passo in avanti anche il Comune lo può fare? Certamente, io sono per ottenere risultati, non ho bisogno di vincere io. Per Padova il Sindaco sogna tre regali di Natale, il nuovo ospedale, il Parco delle Mura, la prima linea del tram, ma intanto, prima l'Università a ricordarglielo, l'orologio va avanti. Certamente, voi sapete che il tema dei tempi dell'ospedale per me sono fondamentali. Noi vogliamo la prima pietra e vogliamo che la prima pietra porti rapidamente a un'istituzione universitaria all'altezza di quello che questa città merita, questa Regione merita e questa Scuola di Medicina può dare. Continua a parlare di spirito di collaborazione il Rettore Rizzuto, che sulle richieste dell'Università rimane fermo. Noi siamo a disposizione delle istituzioni per poi introdurre i contenuti di cui c'è bisogno in un assetto che sia un assetto razionale ed efficiente. Non vogliamo doppioni, non vogliamo una sanità che nasca inefficiente. Nessuna data certa su nuove convocazioni del tavolo nelle mani del Comune. La partita.